Spiegare le ragioni del no al referendum costituzionale che si svolgerà in autunno per bloccare un progetto di deforma costituzionale che finisce per influire fortemente sulla stessa forma di Stato. Si sta assistendo ad una torsione autoritaria nel nostro Paese che passa attraverso questo progetto di legge costituzionale del Governo. Noi sabato sera spiegheremo le ragioni del no, esamineremo punto per punto la deforma costituzionale e spiegheremo ai cittadini, aprendo un dibattito insieme ad essi, che le riforme non sono un valore in sé. Nel senso che le riforme devono innovare, devono andare avanti, devono adeguare la seconda parte della Costituzione ai principi fondamentali della prima. Non devono deformare la Costituzione e deformare la stessa forma di Stato pluralista che ci è costato la resistenza partigiana, che ci è costato migliaia di morti. Lo snaturamento di questa Costituzione vuol dire tornare indietro, non andare avanti. I riformatori non sono loro, loro sono i deformatori. In effetti loro tornano indietro, tornano verso lo Stato autoritario attraverso questo progetto di legge di revisione costituzionale. Noi sabato sera spiegheremo punto per punto quali sono le ragioni perché si invitano i cittadini a dire no a questa riforma costituzionale, così come è già stato detto no dai cittadini ad un'altra riforma costituzionale simile a questa nel 2006.